C'è un grande desiderio di annuncio della parola di Dio e di questioni, su domande vere, su come vivere la Chiesa nei loro territori. Profezia è la parola chiave di questo sinodo. Si ha bisogno di capire come la Chiesa e come il Vangelo, quindi, che la Chiesa testimonia, possa cambiare la realtà, possa avere una capacità di incidere anche sulla vita sociale, politica, ecologica dei territori. Il Vangelo come parola viva, non come parola morta. Grazie.